Il dialogo tra cultura e l'immigrazione e i rapporti nel bacino del Mediterraneo, questi temi al centro dell'undicesima edizione del premio Marzani, organizzato dall'Associazione Campania Europa Mediterraneo ed in programma il 15 ed il 16 settembre a San Giorgio del Sannio in piazza Ciriaco Bocchini. 11 premiati dell'appuntamento che vedrà anche la presenza del Ministro del Lavoro della Repubblica di Tunisia, Mohamed Trabelsi. La serata del 16 sarà dedicata all'assegnazione del prestigioso premio e sarà condotta dall'attrice Carmen Di Marzo. Il premio si svolge in due giorni ma ha una preparazione che è cominciata diversi mesi fa. Il premio nasce nel 2008 per affrontare le questioni legate all'informazione nell'area del Mediterraneo, quindi le grandi tematiche, i grandi temi della stabilità, della pace. dell'immigrazione e della cooperazione internazionale tra i popoli, quindi sempre diciamo avendo al centro di tutto il rapporto tra nord e sud del mondo, tra nord e sud dell'Europa e quindi questo rapporto tra Europa e paesi del bacino del Mediterraneo.